Eccoci qua, cari amici buongiorno, intanto un saluto da Villa Olmo, lo facciamo questa mattina mentre stanno portando via tutte le macchine, le Porsche che hanno caratterizzato il fine settimana noi oggi siamo venuti qui a Lido, voi direte siamo matti? Beh in parte diciamo sì perché di fatto la stagione del Lido è iniziata non so se infatti vieni giù buongiorno Maurizio Locatelli che è il proprietario del Lido, la classica meta di tutte le stati buongiorno a te, buongiorno a tutti, noi canonicamente abbiamo aperto il 20 di maggio come sempre cioè sabato, ricordate che bella pioggia che c'è stata l'anno scorso avevamo 34 gradi e mezzo, è stata una stagione incredibile oggi siamo a 15-16, però noi siamo aperti quindi il Lido è aperto, c'è la piscina, vieni qua che facciamo vedere avete messo a posto già tutto, gli ombrelloni, le sdraio, manca il sole ma non ci perdiamo d'animo, anche perché abbiamo aperto sabato il 20 sotto la pioggia battente la cosa ben inaugurale è che appena abbiamo aperto è arrivata la signora a sottoscrivere un abbonamento stagionale e quindi questo ci dà una grande forza per ripartire, per andare avanti allora il Lido di Villa Olmo è aperto amici, questa è la piscina, poi c'è quella piccola ovviamente ci sono gli ombrelloni, c'è tutto, il bar che è funzionante il bar che è funzionante, quello già dal primo di aprile anche per le persone all'esterno abbiamo delle belle novità quest'anno ecco le novità di quest'anno, andiamo giù un attimo che facciamola vedere al volo poi veniamo quando ancora il tempo sarà più bello intanto saluto tutti i nostri amici la notizia è che il Lido è aperto, c'è una signora che è venuta già subito a fare l'abbonamento stagionale quindi ci dà il sentore che scalpita la gente per poter venire abbiamo già diverse prenotazioni anche nei mesi ma sono più italiani o più stranieri quelli che vengono? no, questa signora era italiana conosca quindi però le prenotazioni online eccoci qua, buongiorno amici che è un nostro bel punto di forza quindi si può prenotare online il vostro ombrellone si può prenotare anche online vero? assolutamente sì, anzi è consigliatissimo per il fine settimana la prenotazione online usufruiscono quasi la maggior parte di tutti gli stranieri perfetto si vede che da tutto il mondo, arrivano da Londra, da New York, da tutte le parti beh il Lido di Villa Olmo è da sempre una delle attrazioni quindi poi Maurizio direi Como, come generale prenotate il vostro posto amici, fatelo vedete, qua è già tutto pronto ripeto, l'unica cosa che ci manca è il sole arriverà arriverà, assolutamente arriverà allora vi facciamo vedere intanto saluto i nostri amici che ci stanno guardando buongiorno a tutti voi da Villa Olmo con il Lido aperto open quindi vi facciamo vedere una delle tante novità di quest'anno forse molto significativa che Maurizio e il suo staff hanno deciso è già tutto oh, hanno già restrellato, tutto pronto ah, eccola qua, perfetto grazie anche ai tuoi collaboratori andiamo a far vedere perfetto ok quest'anno abbiamo completamente avete esagerato tutta la zona privé, sì esattamente abbiamo rifatto completamente la zona della vasca idromassaggio tutta la situazione che bello che è Maurizio questa è la famosa zona privé adesso mi dai una mano a privé grazie ah wow questa è la vasca idromassaggio nuovissima che vi aspetta è già a 30 gradi di temperatura quindi è già tutto pronto per fare un bel tuffo bello, bellissimo ecco, questa è la novità di quest'anno insomma, l'idromassaggio l'abbiamo fatto partire se vuoi accomodarti l'acqua è già calda e lo so, c'è il costume metti la mano indiretta la mano è calda è calda, è calda la mano è calda assolutamente sì assolutamente sì è direttamente sbalto sul lago ebbè abbiamo nostri tavolini che perspiettano ombrelloni, lettini ecco, abbiamo rifatto completamente la zona privé questo avete fatto veramente una... questo è proprio una novità importante questa novità è importante avevamo un vecchio idromassaggio l'abbiamo sostituito wow Sandra wow wow assolutamente sì mi verrebbe da dire wow wow sì, è bella calda è calda è calda assolutamente sì l'abbiamo fatta partire proprio per l'occasione a questo punto dobbiamo solamente star qui con i tuoi collaboratori ad aspettare che possa migliorare però come hai detto bellissimo quanto costa zona VIP ah ecco ci chiedono anche i costi allora dacci due bravo Andrea adesso ti faccio tutto compreso sono 30 euro al giorno mentre per quanto riguarda gli ingressi eh bravo normali noi non abbiamo ritoccato i prezzi sugli ingressi normali che costa 10 euro al giorno per quanto riguardano gli adulti e 6 euro al giorno per quanto riguardano i ridotti che vanno fino a 13 anni o dopo i 65 anni tutto il giorno tutto il giorno e questa che è la zona privé appunto ovviamente come vedete dove l'accesso esclusivo per i maggiori anni quindi dopo 18 anni abbiamo il costo di 30 euro comprensivo di lettini dopo un brellone estraio zona relax e zona idromassaggio perfetto perfetto questo è Lido questo è il nostro amico Maurizio ti auguro una buona stagione grazie grazie mille spero quando è più bello sempre gentilissimi vedremo quando è più bello ci aspettiamo quando è più bello ci sono anche gli abbonamenti Andrea si sono degli abbonamenti con dei prezzi molto vantaggiosi ecco ripeto non abbiamo ritoccato per quanto riguarda le entrate singole i lettini gli ombrelloni e gli abbonamenti i prezzi sono gli stessi dell'anno scorso potete vederli online sul sito lidovillaolmo.it benissimo c'è anche l'idromassaggio che volete di più manca ripeto sono il sole per cui ci stiamo attrezzando adesso chiederemo esattamente grazie Maurizio buongiorno dal Lido è tutto buongiorno